Sì, quelli grossi. No, quelli proprio... Ah, c'è anche quelli piccoli. Dove li hai trovati? Da Carecourt. Ma dove? Nel che reparto? Animali. Ah, nel reparto di animali. Allora costano come quelli che prendono gigante. Eh, infatti. Meri. Ah, ma direi che non mi ricordo, non hanno problemi. Sì. Infatti adesso ho fatto proprio un bagidio. È un piccolo bagnino. Ma forse perché hanno quasi la stessa età. Eh, poco di più. No, lo so, però no, no, non... Sì, certo, non sono quello che lei chiede. Eh, anche il fatto che sono maschi e femmini. Guarda, ma tu con la codina... Magari un chihuahua femmina avrebbe un problema. Ma cosa ti dice Lola? Ha detto che anche lui non ha paura. Dove è andato? Uh, guarda, amate, che guarda Luca. Prosegue? Sì. Bravo, che bene, corteggiala. Guarda, guarda. È visto. È solo che là c'è. Non mi viene tanto per la calice. Così oggi te lo mando. Non mi viene tanto per la calice.